Nel 1993 la mafia rimane con leonesi. I corleonesi controllavano le strade, maneggiavano esplosivi, armi e un esercito di 28.000 uomini pronti a sparare. In 30 anni di conflitti si erano espansi come un virus, trucidando nemici, amici, poliziotti, magistrati, giornalisti, uomini di Stato e persone qualunque. Se l'immagine è perché l'ho fatta chiamare, volevo guardarla negli occhi. Lo faccio ogni volta quando chiedo a un magistrato di entrare nel pool antimafia. Signori, è arrivato il momento di sporcarci le mani. Il che mi padre è la marge, non lo stiamo cuidando, Luciano. Come ricesti tu? I corleonesi non hanno nemici, giusto? Se ci sono, ammazziamo a tutti. Nel 1993 lo Stato era in guerra. E io? Io ho giunto la mità di lì megliorna. Mi trovavo dentro un bosco scuro, scuro. Che non trovavo a chiù la via che torna. Dottore? Accetto. Accetto. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info